I can't stop praying Enjoy my mind Enjoy my mind Enjoy my mind Eccoci qua per un nuovo video ragazzi oggi vi mixo questo pezzo che si chiama Trug e l'ho scaricato dal sito ve lo faccio vedere subito di Produce Like a Pro che è questo ok vi lascio il link in descrizione è diretto da questo signore questo signore che vedete nella foto che è eccezionale mio parere, mia opinione personale si chiama Warren Ward è favoloso è di una simpatia estrema che in uno dei suoi video non mi ricordo se l'ultimo che ho visto o il penultimo quindi fine anno 2022 quindi pochi giorni fa in un suo video appunto che ho guardato in internet in youtube sul suo canale youtube ho visto che nelle descrizioni in allegato il video se ci si iscriveva il suo canale ci dava con me il nome e cognome niente di che niente di più ci dava in regalo una produzione credo registrata nel suo studio vedete questo è il suo studio registrata nel suo studio in Inghilterra perché è inglese credo questo signore e ci dava la possibilità di scaricarla mi sono iscritto mi sono registrato è partito il download la canzone che ho scaricato ripeto questo è il sito torniamo noi la canzone che ho scaricato è questa erano un tot di tracce soprattutto di tracce vocali vedete queste qua in arancione giallo arancione rosato erano di più alcune le ho cancellate perché erano veramente dei doppioni che francamente non sapevo cosa farmene però uno due tre quattro cinque sei sette otto voci tra cui leadbox e sette background direi che sono sufficienti poi c'è una traccia di piano una traccia di ammond road che è soprattutto nelle basse frequente frequenze road 2 synth e synth 2 due synth questa è la mia voce lasciate perdere poi c'erano due guitar acustiche vedetele qua in violetto due guitar in solo elettrico ma non tanto distorte elettriche normali poi vedete una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici tracce di drum e una di basso che io ho raddoppiato quindi due di basso che mando al bas bas una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici due tredici tracce di drum che mando allora mando attenzione non tutte a drum perché queste tredici tracce di drum una due tre kick visto che erano tre kick le ho mandate al bass kick ho creato un bass apposito per le kick poi vi spiegherò ovviamente il perché sugli snare ho fatto la stessa cosa snare button e snare top quindi uno e due li ho mandati nel bass snare e tutto il resto in drum poi le due acoustic guitar e le due guitar electric non distorte della solo tutte e quattro le mando al bass guitar le voci una due tre quattro cinque sei sette otto dicevo le mando al bass vox piano ammond road e road 2 li mando a tutti e synth 1 e synth 2 li mando a tutti della faccio sentire to core com'è ho solo pre-regolato i volumi come vedete per cominciare a incastrare meglio i vari suoni e le varie frequenze solo quello tutto disattivato anzi chiedo scusa disattivo anche gli effetti in mandate che sono rimasti erroneamente attivi vedete tutto spento adesso gli effetti sulle tracce gli effetti in mandata i bass ho tutto pretrattato per ridurre un po' i tempi del video però sono disattivati e ho trattato anche il master disattivato anche lui premetto prima di partire col play vi ho mixato la canzone con i plug-in di plug-in alliance ok bene partiamo grazie a tutti I could run but in what direction would I Make it right Cause I've got a collection Who's gonna break your phone And lay you out on safe ground Who's gonna take a call and get a bouncing sound When it all keeps crashing down When it all keeps falling down Six times in Christ It's all I've lost for lessons I roll the dice Maybe someone can cast a call Who's gonna break your phone And lay you out on safe ground Who's gonna take a call and get you out Safe ground When it all keeps crashing down Okay, ho stoppato perché circa la canzone l'abbiamo capita È molto bella secondo me Partiamo Allora, azzettisco Metto in mute Come al solito Tutte le tracce È tutto spento Ragazzi Fino qua Questa è la voce Gil Metto in mute E partirei Dalla solita struttura Della canzone Kick Quindi mi metto Qua Avevo già selezionato Un loop Che poteva andare bene Dal ritornello Sentiamo Questa è la kick in 1 Allora Ho usato Abbiamo detto I plug in della Brainwork Nella fattispecie Le console Che ho attivato Su ogni singolo canale Della canzone A parte i bass Che invece Ho trattato in modo diverso E non ho messo La focus ride Ma tutti gli altri Ho messo La focus ride Console Quindi ho voluto provarla Così Visto che ve l'ho trattata Con plug in doctor Nel video precedente Adesso ve la faccio vedere In azione Cosa ho fatto? L'attivo Thd l'ho lasciato normale Il link in L'ho lasciato abbastanza normale Ho alzato Lasciando lo shelving alto A 3.300 Gli ho dato Più 7 decibel A 56 hertz Il low shelving basso Gli do Più 8.1 decibel Le medio basse Impostate a 221 hertz Con campana abbastanza stretta Gli tolgo O meno 5.2 E le medio alte Con campana medio stretta A 4.600 Gli aumento 7.800 Senza EQ Con EQ Tiro fuori la punta La parte alta Della kick Poi ho tagliato Con l'opass filter Fino a 12 11.5 kilohertz E con il Light pass filter A 37 hertz Poi comprimo Col compressore È una traccia mono Quindi A 2 A 1 Vedete E poi Gli ridò Il suo gain Per Ricomporre Il volume Della traccia Senza compressore Con compressore Senza tutto E poi Ho usato Il gate Per pulire Sentite Senza gate Rientro In i tom Rientro Una marea Di roba Col gate Pulisco La traccia Questa è la Kick in 1 Poi Kick out Bx console Anche qua Cosa faccio? Anche qui Aumento un po' Le alte Medio Alte Le medio Basse Le lascio stare E a 56 Gli do Più 3 3 Senza Q Ok Poi comprimo Poi comprimo Con tutto Con tutto Anche qui ho usato Il gate Sentite Sentite che c'era Sentite che c'era un rientro Di tanta roba Così il suono Così il suono della kick Le due kick Senza Anzi vi faccio sentire anche la terza Terza kick Questa è quella che dava le sub Diciamo La parte proprio più profonda Più bassa della kick Sempre focus right Alte Medio Alte Medio Basse Le lascio stare Le basse A 33 Le spingo A canna Messe in post Ecolizzatore Poi comprimo Quindi comprimo Prima Gli do un po' di botta Che però Assorberà anche Una parte Di bassissime Frequenze Il compressore Perché sono le prime Che va a schiacciare Quindi gli do Una botta Gliele do tutte Più 18 decibel A 33 herze Però Senza tutto Anche qui pulisco Perché rientrava Della roba Colgate Adesso Tutti e tre Con e senza I plug-in Ok Poi Gli tatte Aumento le alte A 18 A 18000 herze 18 kilo herze Gli do Più 7,6 Bassissime Lo scelvi in basso Medio basse Medio alte Non le tocco Taglio un pochino Le alte Taglio invece Tantissimo le basse Fino a 990 herze Perché tanto Sono piattini Non mi interessa Col compressore 3,2,1 Tengo bada Vedete i piattini Con Senza E anche qui colgate Pulisco un pochino la traccia E poi gli do il room Per il room Ho usato Per la room Ho usato Sempre Brainworks Bigs room Ho impostato Room Small Piccolo Perché ho un room Piccolo E un room Un po' più largo Room corto Vedete Room L Vuol dire Lungo Cioè Una stanza più piccola Una stanza più grande E poi il plate Fatto sempre con Il room Dopo ve lo faccio vedere Impostato su plate Poi ho il core Solito R201 Fx full Open hat Anche qui vedete C'è molto rientro Con il gate Vado a pulire No Sì Sono andato a pulire Ma ho tagliato Anche Visto che mi interessavano Solo i piattini Open hat Il resto non mi interessava L'ho tagliato Poi comprimo Per tenere a vada Aumento un po' Appena un po' Le alte E aumento un po' Le medio alte Intorno a 4800 Hz Tutto Mi interessava Tenere solo Gli open hat Proprio Poi c'è Ride Qui Bix Anche qui ho dato il room È large Anche qui il room large Poi Bix console Taglio E uso lo stesso Anche il gate Ecolizzatore Non l'ho toccato Vado solo un po' Comprimere Un po' Un po' Tanto Senza compressore Con compressore Room Microfono 1 Questa è la stanza Il microfono dove Prende tutta la sonorità Della drum Con in più L'ambiente Quindi diciamo Un riverbero naturale Allora Questo di solito Cosa faccio Lo schiaccio molto Infatti A infinito Vedete Lo comprimo tantissimo Si accende anche La spia rossa Vedete Con attacco Abbastanza veloce 10 millisecondi Relays velocissima E comprimo tantissimo Per tirare su Ancora di più La stanza Poi Ho aumentato Lo shelving alto 11.4 A 15.000 Ho aumentato Ho aumentato un po' Le basse 3.3 A 56 Herz Medio basse Non le ho toccate Le medio Alte Con campana Stretta A 4000 Herz Tolgo Meno 2.5 Poi taglio A 56 Herz E taglio A 15.000 Le alte Senza tutto Sentite Il colpo Del rullante Poi Con il Kirchhoff EQ Sempre della Brianworks Anzi Chiedo scusa Della Plugin Alliance Il produttore Non è Brianworks Ma è Commercializzato Dal sito Plugin Alliance Vado a Togliere Questa Frequenza Sentite Questo Campanello Qua In dinamico Però 146 In dinamico L'ho impostato Meno 9 Decibel Non so Se li toglie Tutti Sì Sembra Di sì Ok Tengo Bada Quella Campana Quel fischietto Lì Che mi Mi dava fastidio C'è lo shaker BX console Taglio un po' Le alte Taglio le basse Fino a 202 Hertz L'ecolizzatore Non l'ho usato Ho usato Il compressore Sentiamolo Tengo 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 Bada Il suono Senza Sentite quanto è morbido Questo compressore È favoloso E poi ho aggiunto La room Anche qua Poi snare 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 BX console Aumento un po' Con lo shelving In basso A 160 Più 6,9 decibel Quasi 7 decibel Dove c'è il corpo Poi Il corpo In realtà sarebbe Intorno ai 2,220 Di solito Di un rullante Io l'ho messo Un po' più basso Però ho cercato Il corpo qua Mi andava bene Se no potevo Non usare questo Ma usare A modalità campana La lasciata default A 1,3 E impostare Questo EQ Intorno ai 200 210 220 Ma mi andava bene Qua è a 0 Adesso Ma mi andava bene Usare lo shelving In basso Gli ho dato un po' Di corpo E col compressore Comprimo E col gate C'erano dei rientri E li ho puliti un po' Senza tutto Ok Poi col black box Vado A dare più volume Ma mantenendo il picco A questa misura qua Cioè in pratica vado A schiacciare E a saturare un po' I picchi Come si fa Come fa l'analogico Non come si fa Come fa L'attrezzatura analogica Un po' di pentode Un po' di triodo Vedete che abbasso il volume Saturo Il picco rimane qua Però sentite il volume Aumenta Room E plate Questo è il button 1 Poi c'è Snare button 1 Poi c'è Snare top Sempre Focus right Aumento gli alti Con lo shelving Fino 11,5 Aumento un po' Anche i bassi Sempre impostato 160 con lo shelving Basso Ok I due medi Non li tocco E poi comprimo Sempre 2,1 Ho usato Con la focus right Solo 2,1 A parte forse il basso Che l'ho compresso 5,1 Ho usato dei rapporti bassi Per non schiacciare troppo Sentite come tira su un po' la coda Senza tutto E gli dà la pacca Tutti e due i rullanti insieme Senza plug in Ho usato il black box anche qua Dove ho compresso un po' Sempre per lo stesso motivo dell'altro Andiamoli a sentire Poi c'erano i tom Tom 1 e Floor tom 1 e rack tom 1 Li ho spostati Uno L42 L'altro R41 L42 circa Andiamo a sentire il primo BX console Ho aumentato Quello shelving basso A 56 Perché era abbastanza profondo Un po' gli alti E un po' i medio-alti Intorno esattamente 2,6 Poi col gate Lo devo attivare Ho pulito Per tenere solo il tom Ok Faccio sentire solo il tom E ho compresso E ho compresso Ridandogli poi il gain Sempre Ah beh qua ha 3 Anziché 2 Comunque ho mantenuto 2,3 Solo il basso L'ho compresso a 5 Quindi 10 infinito L'ho usato raramente Room Mi do un po' la stanza Poi col black box Anche qua Vado a tenere Saturato il picco Vedete che aumenta di volume Ma Guardate prima e dopo Il picco rimane lì Ma c'è una considerevole Differenza di volume Perché l'analogico Aumenta il volume Ma mantiene Un po' limati i picchi La testa Come viene chiamata Ok Poi c'è Rack Tom 1 Questo era il suono BX console Aumento anche qui Alte Medio-alte Un pochino A 95 Le basse E comprimo Senza Anche qui col gate Pulisco Perché entrava Un po' di sporcizia Della batteria Un po' di residuo Della batteria E anche qui Col black box Per mantenere Il picco Un po' più limato E dare quella sensazione Di analogico L'ho usato E il room Anche qua E' rimasto il cymbal Cymbal Lo troviamo Qua E' un crescendo Di piattini Dual pan Perché ve lo faccio vedere Chiedo scusa Mettiamo In loop Ok Senza niente Vedete E' un po' largo Lo vado a stringere In modo che rimanga qua Torniamo noi E poi con Con sol Aumento un po' gli alti Tolgo Con campana Medio stretta Più stretta che media A 593 10 e 10 decibel Perché Ve lo devo attivare Però Sentite la differenza E poi tolgo Anche un po' Di medio Alte Meno 6 decibel A 4000 hertz Era più acido Così è meno acido Poi comprimo Vedete Lo tengo vada Visto che è un crescendo Senza tutto Ok E poi ho aggiunto Il plate Che piace a me Questa è la drum Ve la faccio sentire Tutta Ovviamente Andiamo qua Questa è la drum Disattivo Disattivo tutto Sulla drum E sentite che la differenza Ovviamente c'è Poi ho lavorato Sul basso Il basso era uno Era questo L'ho sdoppiato Poi vi dico il perché Questo è il basso in solo Qui ho aggiunto Prima la Ampec Sempre della Brainworks Anzi è della Ampec Lo commercializza Plugin Alliance Ma è proprio Fatto dalla Ampec stessa Molto basso Nelle bassissime Con questo amplificatore Va a tirar su un po' La parte Medio alta E media E stringe un po' Di più le basse Poi con Bix Console Anzi prima ve lo faccio vedere Senza E mono Quindi è molto centrato Attivo il L'Ampec L'amplificatore Ok Torniamo noi Bix Console Cosa faccio? L'attivo Ho messo a canna Link in Ho messo a canna Il THD Perché cercavo Quelle 3-4 armoniche Che mettendo al massimo Sia il THD Che l'In-Gain Mi Venivano fuori E ve l'ho fatto vedere Con Plugin Doctor Quindi cercavo Proprio la cattiveria Dello stadio di ingresso Cattiveria Barra saturazione Nonostante Gli abbia già messo su L'amplificatore Ampec Lo voglio schiacciare ulteriormente Lo voglio schiacciare ulteriormente Poi lo comprimo Con un attacco non troppo veloce 18 millisecondi Perché voglio tirar su proprio l'attacco L'ecolizzatore Non l'ho toccato Ho tagliato le alte Fino a 5300 Hz E le basse Fino a 36 Hz Senza i due plug-in Poi col secondo basso Cosa ho fatto? Mix console Anche qui In-Gain Metti HD A manetta Poi vado A 978 Hz Glielo do Al massimo Più 16 Tolgo un po' A 162 Hz Quasi meno 4 dB Do un po' A 95 Di basse Vado a distorcere Mandando al massimo Il potenziometro Delle medio-alti Impostato a 978 Hz Con l'ing-in al massimo E il THD al massimo Vado a saturare Vado a saturare Quella banda Di frequenza lì Perché la schiaccio Insieme al volume A canella E il THD A canella La schiaccio Nel Contro il mio stadio D'ingresso Contro il mio Preamplificatore Di linea Della mia console Quindi mi va A distorgere Intorno a questa Frequenza Quindi la tiro fuori Poi comprimo Anche qua Senza tutto Poi non contento Amplitude 5 IK multimedia Con questo amplificatore Che è quello Che si apre Di default Ho sdoppiato Vedete da mono L'ho messo Con due Da un canale Sdoppia mia 2 Dove Nel secondo Ho tolto L'emulazione Del preamplificatore L'emulazione Del cabinet Nell'altro Il canale Invece ho lasciato Preamplificatore Cabinet E in quello sopra Dove ho tolto Preampe cabinet Ho messo però Questo distorsore Lo devo attivare Se no Non ci va su Ok ho messo su Lo screamer Attivo Quindi guardate Lo disattivo Disattivo il cabinet Disattivo L'amplificatore Questo è il basso Normale Sdoppio il canale E' lui E' solo aumentato Un po' di volume Attivo Tolgo il bypass Sull'amplificatore Ve lo faccio vedere Metto a 4 Il preampe Che dà molta cattiveria Abbasso un po' Il volume master Do un po' di treble Aumento le medie Le basse Le lascio a zero A default E aumento un po' Le presence Mi tira fuori La cattiveria Che voglio Poi ritolgo Il bypass Dal cabinet Mi addolcisce Un po' Il suono Poi Con l'altro Canale Che ho attivato Il secondo In parallelo Gli do Lo screamer Lo attivo Senza tutto Ho cercato La cattiveria Gli do il coro Sì in mandata Visto che Questo è quello Effettato Come parte di basso Lo allargo Col coro E poi lo miscilo Insieme al mio Basso originale Da solo Non ci sta Da solo questo Non ci sta Insieme Ho la parte bassa E la parte media Medio alta Anzi Sentite se lo disattivo Basso e drum Poi Sentiamo la kick All'inizio Sentiamo la guitar Volevo dire All'inizio L'ho spostata L51 E la sua Controparte AR51 Mix console Cosa faccio A questa acoustic guitar Taglio A 16.000 Circa Taglio Anche le basse A 92 Hz Poi aumento Con lo shelving alto A 10.000 E do la parte alta Abbasso Un po' In shelving Da 160 Hz In giù Della parte Medio bassa Non tocco Il medio basso Il medio alto Impostato 2002 Lo alzo un po' E poi Comprimo Senza E' favoloso Questo compressore Ragazzi Sentite Su questa chitarra Come morbido Tra l'altro Qua ho compresso Molto Ho spinto Molto E poi Con il mix Vedete Vado Al 54% Quindi Miscelo Il suono Pulito Dry Con Quello Compresso Sentite E' favoloso La seconda guitar E' la sua controparte Che è sposta A 51% Anche qui BX console Aumento gli alti Abbasso un po' Da 160 Hz in giù Con lo shelving basso I due medi Non li tocco Taglio anche qua Le basse Fino a 92% Taglio un po' Le alte E comprimo Insieme all'altra E le faccio sentire Con E senza Con E adesso Li aggiungiamo Room E plate Le guitar In solo Ve le faccio Sentire Qua Anche qui Diviso Una sinistra Una destra 78 L R78 L'altra Mix console Solita Aumento appena Un po' Con lo shelving alto Intorno a 6.800 Basso Medio basso Medio alto Non le tocco E comprimo Sentite anche su questo solo Come lo rende più morbido Ho spinto Ho spinto Lean al Gain al massimo Il THD al massimo Cercavo un po' di saturazione Un po' di cattiveria Senza Poi ho aggiunto il black box Per dargli un tocco di analogicità E soprattutto per tenere a bada Il picco Quindi per tenere saturato il picco Poi room E plate Stesso trattamento Su quell'altra Mix console Qui aumento Anche qui un po' Gli alti A 6.800 Sempre bassi Medio basso E non li tocco I medio alti A 2.200 Però li alzo un po' E poi comprimo Senza tutto Poi anche qui Black box Black box Ok E poi room E plate Le due chitarre Senza niente Ok Gli alti Gli alti ok torniamo il ritornello lead box facciamola cantare però quindi questa era la voce Bix console metto l'ingain al massimo THD al massimo anche qui cercavo saturazione cattiveria un po' sulla voce poi aumento a 15.000 quindi proprio la parte altissima gli do un po' d'aria diciamo aumento più 8.1 il basso non lo tocco medio basso più 4.7 a 210 nel corpo della voce e aumento un po' anche a 3.000 per dargli un po' di intelligibilità 4 decibel poi col compressore comprimo when it all comes pouring out when it all comes crashing down when it all comes pouring out oh 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 Ooh-oh-oh-oh-oh comes crashing down When it all comes pouring out Ooh-oh-oh-oh comes crashing down Cerco la cattiveria anche qua, vedete che ho schiacciato proprio il picco. Qui ci sono le voci background, le ho messe R14 e L14. Partiamo con l'L14, BX console, aumento gli alti, bassi e medi e medio alti non li tocco, aumento a 15.000, gli do un po' di aria e comprimo. Tengo Bada, vedete, solo i picchi, va a comprimere solo i picchi. Room e Play It. E la sua controparte, vedete, allargate, sinistra 14, destra 14, anche qui BX console. Qui aumento gli alti, sempre do l'aria a 15.000, ma do anche un po' più 6.4, un bel po', a 2,2 kHz e comprimo anche qua. Anche qui solo i picchi, vedete? Anche qui a Room e Play It. Qui c'è questa voce, che deve essere una voce bassa, ma non c'è sempre. Ad esempio, è qua. Andiamo a sentirla qua. Sentite, è un canto sui bassi. Allora, console, aumento un po' comunque gli altri a 3.300, aumento un po' a 2.200 per dargli medio alte e un po' di alte, e aumento però anche a 95. Gli do il corpo e poi comprimo. Room e Play It, anche qua. Ci sono due controparti, anche qua. L, sinistra 27, destra 26. Bigs console, aumento un po' gli alti, a 15.000 gli do l'aria, aumento un po' 4.600 a 3.000 e comprimo. Room e Play It. Qui la controparte è uguale, Bigs console, aumento a 6.800, 10.9, quasi 11 decibel, aumento anche qui ma a 4.000 e comprimo. Anche qui è Room e Play It. Qui abbiamo due controparti, anche qua, che ho messo a sinistra 33, destra 33. Aumento lo shelving e gli do l'aria a 15.000, più 8 decibel, non tocco nient'altro e comprimo. E tengo Bada. Prima. La sua controparte, sempre Bigs console, anche qui aumento a 15.000 gli do l'aria, non tocco le medio-basse, le medio-alte a 2.000 Hz, gli do 6.4 e comprimo, sempre 2.1. Poi a tutte e due do il Room e il Play It. Le voci le ho fatte, poi c'è il piano. Ve lo faccio vedere, molto aperto. Vedete che è una nebulosa. Torniamo noi. Dual Pan, lo chiudo un po'. Lo chiuso molto, a 30. Poi, mix console, aumento a 10.000 con lo shelving alto, gli do più 12.5, un bel po', ma tolgo però le medio-alte con campana un po' stretta, medio-stretta. Questo fischietto qua mi dava un po' fastidio e poi gli ridò un po' di alte. Medio-basse e basse non le tocco, poi comprimo. Senzatutto. E gli do il coro. Visto che ho chiuso con il Dual Pan, Lo riapro un po' con il coro. When it all comes crashing down. When it all comes crashing down. When it all... 6 dB l'aria, 15.000, aumento un po' a 160 e comprimo. Con In-Gain al massimo e THD al massimo, per cercare la cattiveria. Poi c'è il Rode 1. Sentite che è la parte bassa. Allora, lo attiviamo. Con lo shelving basso gli do a 95 più 3,9. Gli do col medio-basso a 648. Gli tolgo, chiedo scusa, 3-4 dB. Non gli do, gli tolgo. Filtro le alte fino a 3400 Hz. E le basse fino a 63 Hz. E comprimo. Guardate che dove c'è accesa la spiglia gialla qui. Di EQ-Post. Vuol dire che l'ecolizzatore è tutto intero. Non solo questo, eh. E' stato messo qua. Ma come vi ho detto quando ve l'ho spiegato in Plugin Doctor. Questo è il tasto per portare tutte le due sessioni di ecolizzatore. Post o pre-compressore. Così in Post. Quindi quando li apro, guardate dove l'ho messo in Post e dove l'ho messo in Pre. Senza tutto. E poi anche qui è Room e Play It. Qui c'è l'altro Road. Qui c'è il Synth. Non uso le Q ma comprimo e basta. Ho tagliato però con i filtri le basse fino a 111 Hz. E le alte fino a 11500 Hz. Room e Play It. Qui c'è il Synth. Questo Synth ragazzi ve lo faccio vedere. Vale la pena. Va abbondantemente in controfase. Guardate. Quindi apro il Dual Pan. Lo tengo qui nell'analizzatore così ve lo faccio vedere. L'ho impostato a 30%. Guardate. Non va più in controfase. Infatti si mette in Mono. Lo sentiamo. Torniamo. Torniamo noi. Poi Bix console. Aumento un po' a 15000. Gli do un po' d'aria. e tolgo intorno a 1 KHz. Si 1 KHz. Chiedo scusa. Non 1 Hz. 1 KHz. 1000 Hz. Tolgo meno 4,9 dB. E comprimo. E gli ho dato anche qui il Chorus. Visto che ho stretto l'immagine col Dual Pan. Li riallargo col Chorus. Poi c'è questo sim qua. Anche qua ve lo faccio vedere perché merita. Ragazzi siamo quasi al meno 1, contro il meno 1. Quindi completamente in controfase. Torniamo noi. Quindi cosa faccio? Col Dual Pan lo vado a stringere al 30%. Ve lo faccio vedere. Poi col Bix console. il Q non lo tocco. Vado solo a comprimere. Ora, tutte le tracce con escezze. Grazie. Ok. Adesso, azzettiamo tutti i bass. Togliamo anche, mutiamo anche l'FX full, andiamo con la kick. Perché le ho mandate le tre kick dentro un canale kick prima di mandarle direttamente nel mio bass drum, come faccio di solito? Perché erano tre, quindi le ho dovute ulteriormente amalgamare, anche se ognuna l'ho pretrattata nel suo canale singolo. Però poi andandosi a sommare tre, andarle a mandare subito nel drum, mi sembrava un po' esasperato. Volevo prima amalgamarle a loro volta, prima loro tre insieme. E infatti ho aggiunto un Parpel Audio, che è praticamente l'1176 emulato dalla Brineworks. Guardate, non comprime tantissimo, un decibel. Attacco lento, a tre, diciamo, release velocissima, 4-1 di Retio. Sentite che botta che gli dà con solo un decibel. Poi Better Maker, che è l'equivalente del Pultec, passivo. Infatti c'è un Pultec, due Q medi, se volessi, inoltre in aggiunte, e un I-Pass Filter. Ho usato il Pultec e l'I-Pass Filter. Ho aumentato a 60 le basse, le ho aumentate di 3, da 0 le ho portate a 3, e ho attenuato di 5. Poi con il Medio, a 3.000, vedete, impostato 3.000, ho aumentato di 4.000, non taglio le alte. Disattivo il Pultec. Sentite che botta che gli dà. Poi con l'I-Pass Filter, cioè taglio le basse, e le taglio fino a 40 Hz, vedete qua. Se ci vado sopra, qui nel display, mi fa vedere il numero. Fino a 40 Hz, senza tutto... Sentite che botta che gli dà. Poi col Black Box, per tenere a bada, appunto, quei picchi lì. Sentite che roba. Aumenta di molto il volume, abbassando però il picco. Senza tutto... Vedete che rispetto tra prima e dopo non c'è una gran differenza nei picchi, ma sentite il volume. È la pacca che gli dà. Tutta un'altra cosa. Poi insieme, visto che non le ho date a loro singolarmente, vedete, non ho messo effetti in mandata. Ho preferito darglielo su tutte e tre unite. Insieme gli do un po' di room. Ok, un po' di stanza. Snare, stessa cosa. Li mando, erano solo due, però li mando, prima di mandarle in drum, li mando in un bass a parte, snare, perché li voglio amalgamare anche loro. Allora, BX console. Con la BX console, l'EQ non lo uso. Anche il compressore non è stato usato. Faccio passare semplicemente i miei due snare attraverso la console, ma non faccio nulla. Gli faccio solo passare il suono attraverso. Poi col parpo l'audio. È drum messa al minimo, meno 12. Parallel mix lo porto a 30%. E comprimo. Vedete, con hold tutto attaccato, tutti i button attaccati. Ho cercato la cattiveria, infatti vedete, si accende la spia. Vuol dire che sta saturando. Però poi lo miscelo. Così è il 100%. Così è non trattato. E così con l'aggiunta al 30% del canale trattato. Infatti senza... Tiro su un po' la coda del rullante. Poi black box, anche qua, mantengo i picchi stazionari. Ma vedete, con la saturazione e trio di pentode vado a saturare. Kick e snare. Kick e snare che adesso si vanno nel canale DRAM, insieme anche a tutto il resto. A tutti gli altri canali che ho mandato direttamente in DRAM. Purple audio. Purple audio. 100% qua. Vedete, quindi qua è tutto compresso il segnale. Tolgo. Sentirete che aumenta un po' l'immagine stereo perché l'ho messo in mid-side. Parameter link off, cioè comprimo il canale destro e il canale sinistro in modo indipendente, individuale. Però metto in mid-side, quindi in questo caso diventa il canale mid al canale side, indipendentemente. Poi il mid, lo vedete qua, lo comprimo con attacco lento e rilascio velocissimo, comprimo 1-2 decibel. Il side invece sempre 4-1 come il mid, ma con attacco veloce e rilascio veloce. Sentite l'immagine stereo, ve la faccio vedere, senza. Si allarga appena un po', poi però con il monomaker ho impostato le mono fino a 157, in modo da tenerle un po' strette fino a 150-160, con, senza, senza, con. Sono un po' più incollate fra di loro le tracce. Ho il black box per tenere a bada i picchi, con, guardate senza dove vanno i picchi, e anzi aumenta il volume percepito. Vado a togliere, uso le Q praticamente. il compressore l'ho disattivato. Vado a togliere le medie alte con campana abbastanza stretta intorno a 4600. E li tolgo, vedete, tantissima roba, meno 10 decibel. ci sono quelle frequenze lì che mi danno un po' da fare. kick e bass, dove arriva anche il basso, quindi andiamo prima nella traccia di basso. bx console, dove comprimi insieme, incollo insieme i due suoni, i due canali, perché è quello originale più quello sdoppiato da me che li mando qua dentro. quindi essendo due l'incollo insieme, uso il compressore, l'ecolizzatore non l'ho usato. poi purple audio, comprimo a sua volta anche col purple audio. musica 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 poi drums l'ho fatta kick e bass, dove va kick, snare, drum e in più il bass, quindi tutti questi quattro confluiscono qua. e li incollo ulteriormente. bx tone house, che è l'emulazione dell'SSL, versione REC però, scorporato dal banco. musica sto comprimendo un nulla, e non sto con il make up gain aggiungendo tanto, 1,5 decibel. musica 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 sentite il basso come viene fuori. musica poi black box anche qua. musica per tenere a body picchi. musica musica senza tutto adesso la drum e il basso. musica 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 vedete l'importanza del trattamento anche dei bass, è per questo motivo. musica poi guitar musica 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 purple audio musica 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 in mid side comprimo il middle side in modo diverso in modo da allargare ulteriormente l'immagine. musica 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 e col black box tengo a bada. musica 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 Li tengo un po' a bada Filtro le basse 53 e le alte a 15.000 per pulire un po' la traccia Mix console, aumento un po' a 2.200, aumento un po' a 10.000 e comprimo anche qua Visto che confluiscono tutte le voci qua le tengo un po' a bada col compressore ma non comprimo tanto Solo tengo a bada i picchi Ne approfitto e taglio un po' le basse che non l'ho fatto prima E col parpe l'audio Anche qui in B-Side Allargo l'immagine Comprimo vedete la parte media dalla parte laterale in modo diverso Poi metto Mono Maker e allargo farò l'immagine Con l'output regolo praticamente il side rispetto al mid Più centrata Sentite, le voci in background vanno ancora più ai lati Però mi sembra la sensazione che si abbassi un po' la voce centrale Ora tutti i bassi con essenza Rimaniamo lì circa con i picchi eh Però c'è molto più volume percepito perché ho usato la black box Per schiacciare Come se passasse da Come se i bassi passassero da una console vera Vedete black box qua 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 Le govadi picchi quindi gli do Maggior volume Come se passassero da queste tracce bass Da un'attrezzatura analogica Sto facendo un effetto somma via Per dire i soldoni Aggiungo anche le fakes full Aggiungo anche le fanno Aggiungo anche le fanno Adesso trattiamo anche il bass master Emolazione SSL versione Rekton House Per incollare tutti quanti i suoni insieme 2, 1, 10 l'attacco, 0, 3 release Appena appena si muove il laghetto ragazzi Però sentite come incolla E' favoloso Mi vado a cercare le varie frequenze fischietto L'ho diviso in mid-side Mi faccio sentire i fischietti sui lati L'attivo Qui ho tolto Un altro che ho in frequenza fischietto sul sein Adesso 1, 4 3, 2, 1, 3, 1, 5 non di più taglio sul mi 30 Hz con la pendenza 12 anche qua tolgo alcune frequenze di schietto fastidiose c'era parecchia roba e aumento un po' di più di 0,7 dB perché è un po' calato il volume togliendo della roba lo sentite senza un po' più pulito poi a Bayroad questo è l'unico wave che uso per saturare un po' col drive a 35 a 30 SPL Iron ne approfitto per allargare anche lo stereo wave quindi l'immagine stereo stringo anche l'headroom vedete lo stringo chiedo scusa lo diminuisco diminuendo l'headroom cosa vi ho spiegato in altri video che vado ad avvicinare lo stadio di ingresso il mio suono all'ingresso della macchina vicino alla sua testa massima di saturazione quindi è più facile che lei sature infatti voglio che sature senza favoroso l'aeron e smart limit dove gli do pop 90 meno 14 lufo in spotify senza tutti gli effetti sul master guardate i volumi ragazzi senza e con sentite però l'energia percepita quanto è diversa la faccio vedere lo spettro grazie a tutti grazie a tutti senza i volumi ragazzi senza i volumi ragazzi senza i volumi ragazzi guardate ho selezionato ho selezionato tutte le tracce senza tutto e senza tutto il master spero di esservi stato d'aiuto anche questa volta ragazzi vi ho presentato così intanto in action la VINC console che è favolosa gli dà un'analogicità che è incredibile il prossimo video lo proviamo con la J 9000 J ok ciao a tutti ragazzi alla prossima mettete un bel like iscrivetevi al canale ciao a tutti